Gigi D'Alessio fidanzata, il cantante pubblica, dopo mesi e un figlio, la prima foto insieme a Denise Esposito sul suo profilo Instagram Gigi D'Alessio ha pubblicato su Instagram, dopo mesi di relazione e il figlio nato a febbraio, la prima foto di coppia insieme alla fidanzata Denise Esposito. Scopriamo tutti i dettagli e la dedica del cantante. Leggi anche, Noemi Bocchi è incinta di Francesco Totti, ecco come sta Hilary Blasi, ultime foto. Gigi D'Alessio e Denise Esposito, prima foto insieme Gigi D'Alessio ha sempre cercato di difendere e mantenere privata il più possibile la storia con la fidanzata Denise Esposito. Soltanto adesso, dopo mesi di relazione e la nascita del figlio avventa a febbraio, il cantante ha deciso di condividere su Instagram uno scatto in cui bacia la sua Denise. La foto ha collezionato sin da subito numerosissimi like e commenti. Foto di chiocciola Gigi D'Alessio Real, i.g., ecco cosa ha scritto Gigi D'Alessio come descrizione dello scatto con la fidanzata, Denise Esposito. Chi è la fidanzata di Gigi D'Alessio? Denise Esposito è la nuova fidanzata di Gigi D'Alessio. La donna ha di recente reso il celeberrimo cantautore napoletano di nuovo papà, per la quinta volta, e la loro storia, nonostante la grande differenza d'età, procede a gonfissime vele. Sono in molti a criticare questa unione, ma altrettanti fan si rallegrano del fatto che Gigi sia riuscito a voltare pagine, anche sentimentalmente, dopo la fine della lunga e travagliata relazione con Anna Tatangelo. Ma chi è Denise Esposito? Andiamo a conoscere meglio insieme tutti i dettagli e le curiosità sulla vita privata e sentimentale della nuova, giovanissima compagna del cantante partenopeo. Età, quanti anni ha l'attuale fidanzata di Gigi? Denise Esposito, all'anagrafe Denise Rosi Esposito, è nata a Napoli il 19 novembre del 1992, sotto il segno zodiacale dello Scorpione. Ha attualmente, 2022, 30 anni. Gigi ne ha 55, quindi tra di loro ci sono ben 25 anni di differenza. Francesco D'Alessio, chi è e quando è nato il figlio di Gigi e Denise Esposito? Foto Denise Esposito, la nuova fidanzata di Gigi D'Alessio, è mamma del piccolo Francesco, nato dall'amore con il cantautore partenopeo. Il bimbo è venuto al mondo il 24 gennaio 2022. Benvenuto alla vita, ha scritto il neopapà su Instagram a corredo della prima foto del bebè per annunciare ai propri follower il lietissimo evento. Per il cantante si tratta del quinto figlio, mentre Denise in questa occasione è diventata mamma per la prima volta. Foto, chiocciola Denise Esposito, i.g., Denise Esposito, che lavoro fa? Denise Esposito, la fidanzata di Gigi D'Alessio, è nata a Napoli e cresciuta nel Vomero. Poco si sa della sua vita precedente alla relazione con il celeberrimo cantautore, tranne che la giovane si sia laureata con ottimi voti in giurisprudenza. Non è poi chiaro se abbia mai praticato la professione di avvocato, ma nella sua bio Instagram si definisce, legale. Denise Esposito Instagram Denise Esposito, la nuova fidanzata di Gigi D'Alessio, è su Instagram dove il suo profilo ufficiale risulta davvero seguitissimo. Nel feed, tantissimi scatti che la ritraggono in tutta la sua bellezza e, naturalmente, una pioggia di romanticissimi video e foto con il suo amato Gigi. Qui il profilo. Non segui ancora? Rimedia subito facendo clic qui. E infine, grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante altre interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.